buonasera a tutti un'altra video degustazione organizzata da vino da bere abbiamo un po' preso l'appitudine quindi nonostante sia ormai cessata la prima fase del del covid 19 noi abbiamo deciso di continuare in questa strada perché perché comunque piaciuta sia ai produttori quindi questa sera ci spostiamo completamente di zona e andiamo abbastanza molto al nord quasi confini con la svizzera se posso dire e andiamo in valtellina zona in realtà molto vocata per la viticoltura una viticoltura che spesso viene definita ma forse in realtà i produttori di questa zona non amerebbero essere definiti così viticoltura eroica perché in realtà loro fanno un lavoro che per loro è anche normale faticoso si particolare per certi versi pericoloso ma ma forse eroico un termine no da usare per altre per altre questioni senz'altro parliamo di una viticoltura di montagna quindi una viticoltura in cui il nebbiolo la fa da padrone nebbiolo ovviamente conosciuto in questa zona come come chiavennasca quindi dalla val chiavenna prende con noi abbiamo una del diciamo un rappresentante di una delle aziende più storiche che c'è in zona e l'azienda si chiama balgera e abbiamo matteo balgera che in realtà è alla quinta generazione quindi pensate alla storia di questa azienda e che magari ci ci presenta un po il territorio l'azienda e alcune delle sotto zone perché abbiamo in degustazione questa cena poi pian piano ovviamente diamo la parola a tutti per commentare i vini che abbiamo nel bicchiere aggiungo solo che con me ho danilo magnani dell'enoteca vineria nini alla maddalena che è alla ricerca sempre non solo di prodotti del territorio ma anche di scoperte a livello nazionale ecco quindi darei la parola a matteo anzitutto grazie io appunto sono matteo la quinta generazione dell'azienda la mia azienda in valtellina a chiuro che nel mezzo della valle e come detto tu maurizio noi lavoriamo con nebbiolo in purezza un vitigno nobile che si presta all'invecchiamento il territorio è composto da vigneti che sono per il 95 per cento terrazzati che crescono sulle alpi retiche e che hanno una storia lunga più di mille anni quindi un territorio stupendo e ricco di storia per quanto riguarda la varietà abbiamo nebbiolo in vari cloni e poi abbiamo altri piccoli vitigni autotoni che noi però non utilizziamo ci sono aziende che li valorizzano con il metodo classico con dei rosati noi ci siamo concentrati un po su alte strade il metodo classico è uno dei nostri obiettivi rosato anche però in futuro per quanto riguarda la morfologia del territorio abbiamo un terreno che è composto da sabbia che proviene dall'erosione dei ghiacciai limo che veniva riportato dal fondo valle e scheletro quindi tanti sassi tanti minerali in alcune zone c'è il ferro come nel brumello che andremo poi ad assaggiare calcio e poi i classici minerali la valgella invece una zona più umida la sassella è ben ventilata e ben esposta e l'inferno è la più rocciosa la più calda questo è un po un panorama delle delle zone poi c'è un altro punto da sviluppare che alcune aziende stanno sviluppando l'altitudine quindi la fascia bassa per i vini base la fascia media per la dio cg e la fascia alta per lo sforzato perché in alto le butte sono più spesse l'appassimento per lo sforzato avviene in maniera migliore per quanto riguarda l'azienda posso dire appunto che sono la quinta generazione l'azienda è stata fondata nel 1885 quindi quest'anno compiamo 30 135 anni e speriamo di riuscire a fare una bella festa in autunno produciamo circa 60.000 bottiglie il 60 per cento viene venduto all'estero e la metà della produzione in america quindi 30.000 bottiglie negli Stati Uniti, New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Houston e altre città poi abbiamo una distribuzione a Londra, a Oslo, in Svezia, Giappone e poi lavoriamo in Italia abbiamo un distributore nazionale, altri distributori di zona siamo appunto una delle aziende più storiche e una delle aziende che punta tanto sulla tradizione nel senso che oggi abbiamo un esempio del nostro stile, il Grumello 2004 diciamo riserva è l'essenza di quello che mio papà ha introdotto in azienda quindi un affinamento in legno in botte grande di 7, 8, 10 anni cosa che io e mio fratello non abbiamo stravolto ma guidati dal cambio climatico quindi da un aumento delle temperature, da una maturazione fenolica e da un'acidità diverse partendo diciamo dalla vendemmia 2010 abbiamo iniziato a ridurre i tempi di affinamento in legno ridurre i legni ma aumentare l'affinamento in bottiglia quindi due vini nuovi con l'etichetta bianca, il Quigna, il 450 hanno un affinamento il Quigna di un anno e il 450 quasi due con l'annata successiva del Quigna, la Quinici che verrà commercializzata con due anni e mezzo di bottiglia questo sta a significare che abbiamo adattato la strategia di produzione al clima non stravolgendola, abbiamo solo cambiato il luogo in cui il vino fa l'affinamento Dicevo è molto interessante il fatto che voi facciate un affinamento così lungo in azienda per rimettere in commercio il vino siete una delle poche, in realtà qualche altra realtà c'era in Valtellina che faceva questo mestiere tra virgolette però voi siete tra i pochi che si comportano in questa maniera quindi dato che il nebbiolo comunque anche in Valtellina ha comunque bisogno di un affinamento questo significa avere dei vini ovviamente pronti per il consumo già molto godibili adesso lo vediamo perché stasera abbiamo tre etichette che credo che siano in commercio in realtà quindi diciamo intanto riportiamo i tre vini che abbiamo in degustazione abbiamo il rosso di Valtellina 2015 questo che praticamente è ora in commercio giusto? esatto, da un anno e mezzo da un anno in commercio poi abbiamo il Valgella riserva Quigna esatto e poi abbiamo il terzo vino e la riserva di Grumello 2004 e anche questa se non ricordo male è in commercio esatto quindi significa che comunque sono vini che hanno un lungo affinamento in azienda prima di essere messi in commercio se ci dici magari velocemente come avviene la vinificazione ma più o meno già forse ce l'hai detto quanto è il rosso di Valtellina giusto? esatto 450, 2015, perfetto esatto è una singola vigna posta tra i comuni di Ponte e Chiuro in Valtellina a 450 metri d'altitudine è stata piantata nel 1960 terreno sabbioso e limoso diciamo un 50% per uno e un po' di scheletro molto profondo l'esposizione è sud-ovest quindi è esposto più a sera che a mattina un po' sud-ovest e un po' sud-est epoca di vendemmia prima decada di ottobre fermentazione in acciaio utilizziamo solo lieviti indigeni controlliamo la temperatura e facciamo piedi cuvè con dei nostri lieviti selezionati che abbiamo selezionato negli anni con la partnership di un'azienda nota non faccio il nome però è un'azienda nota che lavora nel settore enologico a fine fermentazione fa un anno intorno ai depositi fini cioè sfruttiamo la lisi degli lieviti per dare grassezza e rotondità un anno in acciaio senza depositi e uno in bottiglia prima della commercializzazione l'oreca è 12,90 più iva quindi il ristoratore la compra 12,90 più iva esatto il rosso di Valtellina perfetto poi abbiamo il Quigna che è un'altra singola vigna però qua siamo nella zona Valgella quindi di OCG siamo nel comune di Teglio la località appunto è Quigna Quigna è il toponimo questa è una vigna anche lei vecchia piantata nel 1960 terreno anche qui limoso e sabbioso però qua abbiamo un 70% di limo rispetto al rosso che è al 50% poco scheletro tanta umidità Quigna nel nostro dialetto significa luogo umido questo nelle ultime dieci annate dove il caldo è stato molto forte ha aiutato queste viti a restare vigorose difatti la vigna Quigna è una delle vigne più rigogliose che noi abbiamo più verdi più ricche di fogli quindi tanta fotosintesi una buona maturazione fenolica anche qui la fermentazione in acciaio con lieviti indigeni sempre piedi cuvè che è nello stesso sistema nel 450 una macerazione più lunga poi sempre un anno in tonno con i depositi fini poi due anni ancora in tonno perché è una riserva però senza depositi fini quindi facciamo un travaso non filtriamo e poi bottiglia il Quigna fa parte della nostra linea più alta insieme a 450 e costa al ristoratore 24,50 euro più IVA il terzo è la riserva Grumello 2004 che fa parte appunto dei vini dello stile di mio padre viene la sottozona e la Grumello non è una singola vigna è un insieme di vigne che sono tutte ad un'altitudine superiore ai 500 metri quindi ai 500 ai 600 metri Grumello zona molto ricca di scheletro sabbia poco limo e ferro quindi nel Grumello troviamo sempre una nota ematica sanguigna non in tutti i Grumello ci sono delle zone in cui c'è il ferro altre in cui non c'è fermentato in cemento sempre con lieviti indigeni sempre col piedi cuvè perché il piedi cuvè l'ha introdotto mio papà mio padre poi ha fatto due anni ancora in cemento dove abbiamo fatto i vari travasi sempre con la decantazione statica quindi in maniera naturale poi dieci anni in botte grande di rovere le botti hanno sono state acquistate da mio nonno negli anni 70 metà anni 70 quindi neutre sempre tenute pulite manutenzione mai perdite tenute sempre colme e poi il resto in bottiglia circa un anno e mezzo per quanto riguarda la chiusura che a me piace sempre puntualizzare il Pinia e il Grumello sono chiusi con un tappo in sura naturale certificato quindi sono tappi che vengono analizzati con un gas cromatografo il naso artificiale che scarta i tappi con un valore di TCA superiore il 450 è chiuso con una microgranina trattata non posso dire il nome ma avete il tappo davanti quindi un altro tappo che comunque non dà problemi di TCA con l'annata 2015 abbiamo cambiato dalla microgranina a qua devo dire il nome al nomacor perché altro molo per descriverlo non c'è comunque non è un grosso peccato il prezzo qui siamo per ora siamo per l'anno 2020 siamo a 19,40 più IVA nell'anno 2021 subirà un aumento per compensare con il Quigna e l'altro che abbiamo messo in commercio quindi andrà intorno ai 22 penso bene io intanto ti ringrazio e comincio a dare la parola alle persone che poi devono andare via perché abbiamo fortunatamente diciamo due due persone che lavorano in due ristoranti anche importanti che ringraziando il cielo stanno lavorando quindi la ripresa c'è c'è stata quindi comincerei da da Gianni Sinesi che è il sommelier del ristorante reale a Castel di Sangro quindi ristorante di Nico Romito Tre Stelle Michelin che che ovviamente magari ci dà una sua opinione su questi tre vini perché non so se conoscevi l'azienda già Gianni questo non ciao Matteo ciao intanto grazie ringrazio sempre Maurizio e tutti per l'opportunità che mi date e ci date per quanto mi riguarda conoscevo l'azienda e tanto tempo forse l'ho assaggiato una volta solamente per colpa mia ovviamente però insomma la conoscevo già e devo essere sincero sono rimasto veramente sorpreso perché sono dei vini veramente molto interessanti soprattutto perché sposano il mio gusto sposano la filosofia di abbinamento che io uso con la cucina di Nico e sono veramente quindi complimenti per questi bei tre vini mi è piaciuto molto Valtellina 2015 perché parte insomma da un equilibrio che su me è sempre fondamentale nonostante la giovane età a questo sentore di melograno che a me piace molto nei vini e mi colpisce un sacco quindi ho sentito queste note belle fruttate balsamiche nel finale e soprattutto di erbe ma quello mi è piaciuto molto è la freschezza in bocca e la sabidità e questa sabidità presente ma soprattutto questi tannini che sono presenti ma non invadenti e mi è piaciuto molto e mi ha fatto pensare proprio a primo impatto se proprio vogliamo parlare di abbinamento al cocomero e pomodoro di Nico cioè ho assaggiato questi vini a temperature di 16 gradi diciamo che i vini rossi io li servo sempre a temperature abbastanza fresche però questi qui avevano proprio voglia di sentire l'estate quindi nonostante sono vini di montagna è parte di una viticoltura eroica quindi hanno questo equilibrio frutto acidità meraviglioso mi è piaciuto molto con il cocomero e il pomodoro perché il piatto di Nico presenta questo dolce agrodolce passatemi il termine che si sposa molto bene con il frutto iniziale del vino e la sabidità quindi mi ha colpito e poi ci hanno tutti e tre questa acidità vivace che fa parte insomma della viticoltura di montagna dove comunque c'è una grande escursione termica per quanto riguarda la riserva 2013 io penso che almeno credo sia stata un'annata anche abbastanza impegnativa come viticoltura e mi è sembrato a più un patto non so se sì penso posso dirlo tanto mi sembrava un barolo di monforte per quanto per quanto fosse nitido con questa acidità spinta comunque elegantissimo e anche qui dei tannini belli morbidi e mi ha fatto pensare ovviamente ho legato a questi piatti che sta facendo Nico dei vent'anni del ristorante reale alla alla costina di agnello alla brace che sta facendo Nico che è un piatto apparentemente semplice ma bello succulento e molto molto veramente grazioso alla costina di agnello alla brace con questa pureri patate montata ad olio e secondo me l'equilibrio l'equilibrio è veramente perfetto e poi invece la la riserva 2004 sempre anche qui grandissima espressione di vino un vino oltre a un vino asciutto di grande struttura ma vellutato grande freschezza anche qui mi è piaciuto un sacco perché è un vino che ti bevi un po' come l'acqua nel senso nonostante l'età che ha passatemi il termine ovviamente perché è un vino che mi piace godere e proprio ti godi l'espressione degli anni e dell'età che ha e qui ho assardato sull'abbinamento perché ho pensato lo so che tutti insegnano a non abbinare il vino con il carciofo ma il carciofo rosmarino di nico secondo me con questo vino penso sia uno da provare perché me lo sono immaginato ovviamente ma conosco molto bene il piatto così come ho assaggiato il vino e due sono meno sarà una bella esperienza ma lo proverò perché tanto i carciofi riusciranno insomma più in là e sarà veramente un grande piacere riprovarlo ma secondo me sono ecco questo è proprio il classico esempio dei famosi abbinamenti impossibili che se non è il carciofo rosmarino perché il carciofo poi tira note tira fuori note balsamiche dall'acciuga alla comunque alla sapidità all'amaro del rosmarino alla liquirizia tutte queste note che insieme al vino se non è si amalgamano bene e ovviamente poi cos'è che ti dà ti fa ritornare al pulizia del palato l'acidità e l'eleganza del vino che in questo caso è la riserva del 2004 grazie Gianni grazie intanto che ci hai fatto sognare anche se purtroppo i piatti non ce li avremo davanti ma vedremo almeno in foto poi verremo a trovarti ovviamente diamo la parola adesso diciamo al sommelier e anche a titolare uno dei titolari di un altro di un altro ristorante che è l'Oasis Antichi Sapori a Valle Saccarda siamo in Irpini diamo la parola a Carmine Pischetti della famiglia Pischetti un po' ci restituisce un po' la sensazione intanto lo ringraziamo perché ha fatto i miracoli per essere presente a questa degustazione ecco quindi Carmine dicci un po' che cosa ne pensi di queste tre etichette che e che ti suscitano insomma sia come sensazioni sia come come proposta da Binamè allora intanto è un'azienda che conoscevo solo per perché avevo letto tantissimo e mi interessava tanto però con molta sincerità non avevo ancora assaggiato i loro vini e mi sono piaciuto molto perché condivido con Gianni per la freschezza l'acidità che hanno quindi vini che si sposano all'abbinamento in maniera in maniera straordinaria un'altra cosa pure che mi è piaciuta tanto è il grado alcolico che che non è importante quindi 12 e mezzo 13 quindi uno volentieri beve di più il secondo bicchiere anche la seconda bottiglia quindi è quello che vogliamo tutti sia ristoratori che produttori ehm andando sul primo vino sul 4,50 ehm a mio avviso è quello che mi è piaciuto di più personalmente lo vado un po' di ha istinto dal punto di vista del del palato ehm mi ha dato questa freschezza questa sabidità questo balsamico pure in questo periodo estivo ehm è piacevole molto ehm berlo ehm mi ha fatto sentire proprio ehm quasi un vino come una volta nonostante che abbia fatto anche un po' un po' di legno quindi mi ha ricordato i vini ehm anche delle nostre zone ehm quindi mi è piaciuto e addirittura io questo qui lo abbinerei questo vino a un carpaccio che facciamo noi di vitello con con del pomodoro per cui origono selvatico e dei veli di caciocavallo quindi pure il caciocavallo perché i tannini che ci sono ehm sono sono non sono importanti però allo stesso tempo riescono a pulire ehm la grassezza anche del del formaggio secondo vino il quigna ehm pure qui eh c'è c'è un'importanza sento la frutta questa confettura di frutta però un pochino ehm secondo il mio palato è sovrastato dal 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 legno eh però non non in maniera importante quindi sempre in maniera delicata eh però eh pure qui c'è l'acidità che pulisce eh subito dopo eh averlo bevuto in bicchiere qui lo abbinerei a a un altro nostro primo tu Maurizio conosce il nostro storico raviolo di ricotta eh in salsa di noce aglio bruciato quindi questa cosa che gli dà un po' di tostato per abbinamento diciamo ci sta bene con il quigna per perché sento un po' di di legno che che ci sta in questa in questo vino però c'è anche il frutto questa confettura di frutta rossa che mi piace però secondo me col tempo questo vino qua verrà fuori alla grande quindi per questo vino penso che c'è da aspettare ancora tanto ritornare poi passando al terzo vino al grumello che che mi ha veramente impressionato per quanto riguarda gli anni che ha quindi in 16 anni sembra sembra ancora con una freschezza incredibile quindi qui si sente questa freschezza questa acidità e allo stesso tempo senti anche un vino un po' più maturo quindi questo etereo che ti fa bere in maniera piacevole beh questo qui in abbinamento sempre al nostro territorio però qui ci metterei sicuramente l'agnello l'agnello con pure patate affumicato una riduzione qui farei anche un po' di riduzione del valpendina stesso quello di questo di questo vino mi piace immaginarlo in questo modo in questo abbinamento quindi una mia classifica personale metterei il 4,50 come primo posto pure se il vino più semplice poi il grumello e infine il quigna però tutti con un'eleganza e una freschezza piacevole quindi mi hanno colpito in maniera piacevole grazie grazie Carmine grazie ancora io per esigenze pratiche perché so che abbiamo un nostro autore che è in una zona in cui non ha una copertura eccellente quindi finché c'è la copertura lo farei lo farei parlare Gianni Travaglini che si trova anche lui in Sardegna in realtà e che magari ci restituisce una sensazione su questi vini Gianni tra l'altro se non ricordo male tu ne hai anche già scritto non di questi ma di altri vini della stessa azienda Sì ne ho già scritto ho avuto la fortuna diciamo di assaggiare un po' nell'articolo di aprile vabbè allora vado subito al nocciolo della questione questo Quigna diciamo gli altri vini si trovano si trovano notizie eccetera questo Quigna invece come ha detto prima Matteo appunto è un'anteprima insomma non si hanno notizie non si trova da nessuna parte e quindi ero molto curioso diciamo di sapere che tipo di vino era ecco la prima diciamo considerazione che è anche una domanda cioè gli altri vini che ho assaggiato prima sono tutti diciamo annate abbastanza indietro ho assaggiato appunto a parte il Grumello di oggi riserva 2004 poi ho assaggiato una Valgella 2003 una riserva sempre Valgella 2002 che più o meno credo che fossero le ultime annate in commercio mentre invece questo Quigna è un Giovincello diciamo una riserva del 2013 e quindi anche secondo me insomma prevale molto e va bene insomma secondo me appunto c'è questi toni ancora che forse devono evolvere rispetto agli altri che diciamo hanno un'anzianità tra virgolette diversa a suo tempo avevo assaggiato anche il Rosso il 450 e conferma insomma che è un vino diciamo sì da considerare rispetto agli altri ovviamente è un vino base ma un vino che ha una complessità una grande piacevolezza di beva tutti questi vini secondo me hanno questa impronta veramente da da alto Piemonte insomma rispetto ai vini rilanga quindi meno polpa meno frutto più mineralità più finezza più leggerezza diciamo così quindi su questo per quanto riguarda la tradizione insomma di questi vini veramente la confermano in pieno poi insomma diciamo il vino che mi ha più colpito più emozionato ovviamente no ovviamente però per me sicuramente la riserva Grumello 2004 per tanti motivi innanzitutto perché Grumello ha più frutto ha più aromi diciamo forse è più pronto fra virgolette rispetto a un sassella o a un inferno insomma però insomma questo 2004 secondo me è veramente al top ecco ha una complessità di profumi veramente superiore secondo me a tutti gli altri e poi in bocca insomma c'ha queste note che già a suo tempo avevo fatto notare dei ricordi di Maurizio hanno fatto questo assaggio anche durante il corso della Fisar c'ha queste note di tamarindo di chinotto insomma molto saporito questa sapidità che ne ha l'acquolina in bocca quindi è un vino veramente che insieme a quelli che avevo assaggiato a suo tempo cioè il Valgella 2003 e la riserva sempre di Valgella 2002 erano veramente dei vini eccezionali secondo me grazie dovresti dare un punteggio a questo vino sicuramente fra il 95% ecco e adesso mi taccio grazie Gianni io cominciamo un po' la carrellata anche dei nostri autori di vino da bere e cominciamo con quelli che ultimamente erano o meno intervenuti nelle nostre videodegustazioni quindi inizierei da Donato Antonio Notarachille che magari ci dice qualcosa ci restituisce un po' le sue sensazioni Donato e anche ovviamente potrebbe essere un nostro autore un giornalista quindi saprà descrivere brillantemente queste lezioni lo spero grazie un saluto a tutti quanti innanzitutto e ringrazio per l'opportunità di condividere la bevuta ringrazio Matteo per l'invio dei vini e ovviamente parto da quella bottiglia diciamo così un po' un po' equivoca ho avuto un piccolo fastidio iniziale con un piccolo problema con il quigna risolto dopo qualche ora di ossigenazione si è si è rivelato un piccolo blef diciamo così il problema iniziale il fil rouge di tutte e tre gli assaggi diciamo così e questa grande freschezza eleganza questa sottile delicata a mineralità caffè rosa che ho individuato in quasi tutti e tre i vini in modo particolare poi la traccia ematica è venuta fuori sul grumello e sul 4,50 un po' meno sul quigna però tutti quanti hanno una una spiccata mineralità e una bella sapidità che come spiegava prima Gianni mette l'acquolina in bocca effettivamente sono vini che hanno dalla loro una grande gastronicità in effetti gli abbinamenti che proponevano il ristoratore e il collega sommelier nel ristorante di Nicolomito fanno venire tanta fame ecco io sono già affamato sono in dieta non dovrei neanche pensarci però va bene passiamo passiamo oltre il allora il quigna mi ha dato qualche problemina iniziale poi successivamente ha dimostrato un dei interessanti di mineralità scura mi ha ricordato molto note di grafite devo essere sincero mi aspettavo o forse avendo letto qualcosa su l'esposizione di vini e l'attitudine e il resto un vino un po' meno solare mi ha ricordato molto più che un nebbiolo di montagna mi ha ricordato più un appoggio più langarolo ecco mi ha dato l'impressione di trovarmi in una terra un po' più calda durante la fase di raccolta non so ecco in bocca è stato vispe croccante il tannino acidità importante una bella peruta senz'altro sicuramente la cosa che mi ha riconciliato con il problema iniziale è stata questo ricordo di arancia amara nel finale è una caratteristica che a me piace molto riscontrare nei nebbioli e quando sento questo aspetto che sta a metà fra il varietale e il territorio parliamo di terrazzamenti che hanno un'esposizione con tanto sole quindi con una bella maturazione nonostante l'altitudine mi fa pensare insomma che l'approccio del vignaiolo sia stata rispettosa di una giusta maturazione dell'uva quindi di un giusto percorso senza interferire con raccolte anticipate a voler giocare in qualche modo a stravolgere l'annata e quello che il territorio poi restituisce nel vino alla fine la nota buasè che lamentava il ristoratore io non l'ho avvisata quindi questo legno invadente non mi è sembrato anzi più tanto il 4,50 mi ha entusiasmato devo essere sincero è un vino che mi è piaciuto tantissimo perché io berrei freddo caldo da molta soddisfazione facilità di beva disarmante mi ha incuriosito molto quella nota di melograno iniziale insieme a una sorta di diciamo così macedonia di fragole e ciliegie un po' macerate nell'alcol però ho ravvisato anche una certa eleganza nonostante pensavo che fosse un vino di pronta beva e quindi molto immediato giocato sul frutto e sull'acidità in bocca e mi ha veramente colpito devo essere sincero non conoscevo questo aspetto diciamo così del rosso di valtellina in grado di giocare su questo dualismo tra la pronta beva di solito è l'eleganza ecco anche perché sono cinque anni dalla vendemmia mi aspettavo ancora tanto frutto fresco e basta in realtà ha dimostrato di avere anche una capacità di affrontare il tempo importante il grumello il grumello ha colpito nel cuore vino che difficilmente si riesce a a inquadrare in schemi a raccontarlo con delle descrizioni ci sarebbe da volare alto tra le spezie e i legni orientali tante tante cose cioè vino che ho impiegato tanto 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 a decifrare ma non perché fosse difficile farlo o più che altro perché cambiava di continuo e regalava tante tante emozioni quindi è una dovuta straordinaria 16 anni non li dimostra anzi cioè nel senso 16 anni dalla vendemmia che in realtà è da poco che è uscito in commercio e credo che possa tranquillamente invecchiare altri 16 20 anni e quasi al top secondo me tra qualche anno sarà ancora più in forma smagliante e dei tre quello in cui ho sentito di meno in assoluto l'alcol il finale balsamico con ritorni mentolati è stata una chiusa perfetta tre bini di altissima qualità senza dubbio dovessi fare una classifica ovviamente il Grumello in cima però il 4,50 lo tallona perché credo che abbia la potenzialità anche di diventare nel tempo una una bevuta tutt'altro che scontata è semplice quindi il Quigna forse mi condiziona un po' il problemino iniziale magari riaffrontando la bevuta nel tempo forse sconta anche un po' la sua giovinezza pur essendo una riserva magari potrebbe essere molto più interessante affrontarlo tra qualche anno e capire meglio le sue sfumature comunque complimenti tutti i tre bini eccezionali grazie grazie Donato sono anche d'accordo anch'io con le tue preferenze sto comunque riassaggiando via via il Quigna che nel bicchiere si sta aprendo sempre più ovviamente è quello più restio un po' più severo e forse anche quello in cui la struttura è anche più esuberante comunque passiamo un attimo la parola ad un autore che è un nostro anche autore che da qualche tempo ma che è una new entry per le videodegustazioni che è Stefano Kualovic di aver conosciuto questa cantina perché non avevo assaggiato nulla di loro e do atto e so al coraggio anche di queste lunghe conservazioni delle bottiglie perché così riescono un po' a venire a capo anche di queste nebbioli che tutta prima potrebbero sembrare molto scontrosi scabrosi in bocca per la gestione anche danninica però effettivamente anche il vino più giovane che ho assaggiato che il rosso di Valtellina pure a me è piaciuto tanto è veramente una bella scoperta è molto elegante per niente leggero come potrebbe sembrare a un primo di primo acchitto invece c'è tutta questa nota un po' di floreale come hanno detto lo fruttato fiori di campo è piaciuto veramente tanto una bella bocca casnella con questi ritorni speziati nel finale molto fresco e poi vabbè chiaramente metto dopo il Grumello perché grande vecchio vedo che è veramente un vino importante che ha molta sostanza con queste notematiche mineralità di tabacco chiaro e altro e poi c'è il Chimia che pian piano più passa il tempo e più si sta come hai detto te hai detto la spagnola qui Chimia però diciamo sì il Chimia sì il Chimia il tempo di vacanze uno già pensava chiave spagnola perché anche la mia bottiglia appena aperta sembrava quasi un frizzantino tipo una spirina effervescente che sulle pettine pure questo sentore molto ciclino e invece ora vedo che pian piano si sta aprendo e sta dando belle cose un sottoposchio sento quasi il carcadeo sentito un ibisco c'è sempre un po' di nota carbonica sempre questa grume presente quindi c'è un bel vino che andrà assaggiato tra qualche anno che penso abbia delle buone possibilità quindi sono contento di aver conosciuto una cantina che ammetto la mia ignoranza praticamente non conoscevo grazie passiamo la parola a un altro autore si parla di un'autrice di vino da bere che è Carlotta Salvini che è anche appunto miglior sommelier d'Italia per FISAR nel 2019 quindi chiedo a Carlotta che lo sarà fare meglio in questi casi lei usa anche sempre dei scrittori molto molto simpatici anche molto grazie grazie Maurizio e grazie Matteo per partecipare io conoscevo conosco diciamo l'azienda per storicità ecco però ancora non avevo avuto occasione appunto di assaggiare i vini e veramente sono veramente onorata perché allora ho trovato dei vini tutti e tre diciamo di evidente complessità e personalità diciamo anche per caratteristiche diverse in tutti emerge appunto evidente complessità sono vini molto autentici per caratteri diversi ma inizio diciamo faccio una panoramica un po' su tutti qualcuno nei piatti che ha consigliato ha messo diciamo ha comunque consigliato dei piatti con delle erbette aromatiche questa è una nota che l'ho sentita evidente soprattutto nei primi due vini sia nel rosso di valtellina che nel quigna appunto note di erbette aromatiche vanno a colorare la parte appunto olfattiva che è comunque arricchita da purri di frutti di bosco non c'è una nota dominante ma è come appunto frutti di bosco un po' schiacciati e si annusa ecco questa nota evidente di sensazione di frutti di bosco prevale sotto bosco la terra bagnata nel rosso di valtellina una traccia ematica che l'ho sentita evidente nel 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 4,50 appunto e nonostante appunto sia un rosso di valtellina eh io l'ho sentito già un vino serio quindi è un vino con un gusto pieno un tannino che è graffiante ma allo stesso tempo carezzevole perché va nell'attacco all'inizio ma comunque non va a proseguire diciamo nel finale di bocca ma qua lascia la bocca molto molto pulita è una un vino dinamico sento un vino dinamico un vino fresco che gioca su questa attenzione acido-sapida un gusto pieno comunque l'ho trovato veramente ben fatto veramente il quigna allora io sì questo è un vino dove ho sentito questo aspetto che io lo chiamo un po' nel naso austerità positiva cioè è un vino austero un vino che che non si mostra tutto tutto subito no? ma è è lì che che va ad aprirsi pian piano questo molto spesso viene intrapreso a volte come un carattere di di un vino un po' chiuso no? in realtà è una caratteristica ben precisa che ci sono dei vini che sono fatti così e questo un po' ce l'ha questo carattere un po' austero no? che va lì ad aprirsi pian piano però ho trovato anche questo grande interesse grande complessità olfattiva di di ampiezza a differenza del rosso che va più sulla finezza ecco su note più sottili questo è più ampio anche qui frutta in questo caso non è quasi macerata questa frutta questi frutti di bosco li ho sentiti poi una viola passita una radice una china di turizia ecco che vanno ad arricchire il gusto anche questo assume più peso vino che ha più peso in bocca più grazie a questa trama olfattiva che è la trama tannica che è più sitta è una trama ancora insomma sterrata ma poi va pian piano a distendersi nel finale anche questo è un vino dinamico lo sento che ha una dinamica di bocca che va con un attacco deciso va con volume in questo caso volume e ampiezza e poi chiude nel finale il finale è elegante con queste spezie e torna mi torno trovo d'accordo con Donato questa nota di arancia amara l'ho sentita qui in particolare nel finale interessante nel grumello si sente il cambio di passo il cambio di stile nel senso allora se tu assaggi il grumello prima e poi assaggi gli altri due senti il passo il cambio di stile cioè senti che c'è un passaggio un cambio allora è un modo di interpretazione del vino che è diverso quindi si sente questo aspetto diciamo che cambia sia nel naso che in bocca a parte la zona lasciamo perdere la zona ma si sente proprio che è un aspetto che il modo di come è stato pensato il vino era diverso quindi io ho trovato questo aspetto quindi una bocca un vino morbido una morbidezza un tannino che è velluto praticamente gli altri due appunto a parte l'annata ma non importa ma è proprio la qualità del tannino che è ovviamente diversa un vino che è già bello modellato la cosa che mi sarei aspettata in questo grumello che ho trovato di più negli altri due è il finale il finale che è un finale che chiude un po' così un po' tondo nel senso non ha la chiusura sottile lineare come gli altri due ma è un finale che va un po' un po' a tagliare ecco nel senso e ti aspetti magari forse una grandiosità ecco nel senso un po' più da un po' più che ti ricorda gli altri due ma questo è perché lo stile penso che sia diciamo lo stile che è diverso proprio si parla comunque di una riserva che è stata anni nella botte di legno quindi questo ambiente che anche di lenta microossigenazione gli ha dato questo comunque questa ampietà questo equilibrio che è già bello di suo e questo trovo che sia un vino che abbraccia i gusti di chi piace appunto un vino già con una bella evoluzione già con dei miei sentori di naso insomma belli soddisfacenti ecco insomma comunque complimenti bellissima degustazione grazie bene tanto ti ringrazio Carlotta allora io passerei la parola ad un nostro autore giornalista che è Gianmarco Nulli Gennari che ci restituisce anche lui le sue sensazioni questi tre bimbi stai con la bibbia in mano vedo ecco le mani no la bibbia la bibbia no la scherza ciao a tutti ciao a tutti no vado come al solito un po' cerco di essere il più possibile sintetico e io ho trovato un filo comune che che riguarda tutti e tre i vini ed è un filo fatto di sangue di sapidità e di soprattutto ho trovato una balsamicità molto simile tra la menta e in un caso parliamo soprattutto del quigno ho sentito invece proprio nettamente le erbe di montagna e poi aggiungo grazie alla alla dritta di Carlotta le devo un caffè anche una dinamica gustativa molto molto simile tra i tre e decisamente piacevole poi per quanto riguarda nello specifico i tre vini il primo ha forse di tutta la batteria è quello che ha il frutto più più diretto più più nitido immagino che questo derivi anche dalla 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 nata che forse sarà anche lì più calda rispetto a rispetto ad altre e diciamo che tra i primi due ci sono delle similitudini che un po' riguardano il fatto che ci ha detto Matteo sostanzialmente sono due vini del del nuovo corso sono due vini che secondo me miglioreranno rispetto ad oggi il primo perché forse ha un tannino ancora da integrare del tutto è un tannino abbastanza prepotente e il secondo perché comunque anch'io in parte sento un accenno di legno che verrà smaltito sono certo con un po' di vetro e quindi diciamo sono tutti e due vini secondo me di prospettiva il secondo secondo me di grande prospettiva perché riesce a coniugare verticalità e materia ha una materia molto fitta e poi ha una chiusura splendida di arancia come è già stato notato e chiudo molto rapidamente il terzo per tirla in due parole considerando anche il prezzo che ci ha che ci ha rivelato Matteo ecco appunto se fossimo in Francia se fossimo più o meno per essere più precisi tra Lione e Digione questo è un vino che venderebbero tranquillamente a dieci volte tanto è un vino meraviglioso è un 2004 ma non si sente nel senso che al di là del fatto cioè si sente solo in positivo il tannino è chiaramente già del tutto risolto ed è perfettamente integrato con nella pepa i dieci anni di botte non si sentono è un legno gestito in maniera perfetta a eleganza a sapidità a profondità e ripeto io questo vino qui non vedo perché non potrebbe essere messo a confronto magari come dice spesso il nostro direttore messo in mezzo a una cieca con qualche pino nero della Borgogna io credo che potrebbe darci delle sorprese tra l'altro è un vino bellissimo anche dal punto di vista cromatico perché il colore secondo me già ci racconta tantissimo di che cos'è questo vino ha una delle trasparenze secondo me molto molto che raccontano comunque quello che poi si sente in bocca quindi complimenti per tutti e tre i vini ma in particolare per questo Grumello Superiore Riserva 2004 che trovo magnifico ovviamente mi associo anch'io ai complimenti sia sui tre vini che soprattutto sulla riserva Grumello che se volete saperlo è uno dei motivi da cui nasce questa videodegustazione perché io mi impressionai particolarmente assaggiando questi vini ad una degustazione organizzata da se posso dirlo credo da proposta vini fondamentalmente comunque a Roma e quindi è nato l'interesse per questi vini di questa azienda di cui abbiamo scritto infatti altre io a questo punto lascio la parola ai nostri autori che fortunatamente spesso capitano per ultimi mi dispiace che sono Sabrina Signoretti e Salvatore Del Vasto però ho una giustificazione perché Sabrina è la persona che poi cura i nostri video monta i nostri video quindi anche forse bisogno più di tutti di assistere un po' alle parole di tutti quindi diciamo non so se la scusa regge però ci ho provato è Salvatore Del Vasto comunque è un ritmo che possiamo dire per chiudere in bellezza lo dico esatto quello sicuramente chiaramente se fosse così allora mi caccio se fosse così allora mi caccio ecco volevo un po' che voi ci restituiste le vostre sensazioni e magari qualche vostro commento ecco sì Maurizio allora sarò sintetico stavolta cedo molto velocemente la parola Sabrina allora condivido in pieno quello che è stato detto finora un po' su tutti i metallici ma soprattutto sul Grumello Riserva 2004 un vino davvero emozionante un po' sai cosa ho scoperto assaggiando più volte ormai questo calice di quanto il nebbiono di montagna o se si vuol dire la chiave in nasca sia in grado di regalare note di eterna gioventù questo è un vino che assolutamente alla cieca non avrei mai e poi mai datato nel 2004 una freschezza o meglio è un vino in cui ritrovo due anime un naso estremamente complesso evoluto gentile aggraziato e una freschezza gustativa davvero spiazzante e il collubio ti posso dire che è davvero emozionante un vino piacevolissimo che ha a mio modo di vedere una chiusura bellissima al finale già detto ovviamente tutto di arancia rossa arancia leggermente amara ma anche una nota di salamoia è un vino secondo me concordo con quello che ha detto Gianmarco che nulla da invidiare ai più blasionati i vini diciamo d'oltre alpe per dirla così ma molto interessante da parte mia è stato anche il rosso di Valtellina 2012 i due hanno secondo me un tratto molto comune si assomigliano un po' per questa freschezza per questa eleganza per questa anche capacità di beva diciamola così ambe due per sfumature e caratteristiche diverse il Quigna è un vino che secondo me ha più polpa ha più ciccia ecco perché a volte può in prima approccio destabilizzare però io ho avuto durante questa diciamo chiacchierata piacevole la possibilità di riassaggiarlo più volte intanto ho notato che con l'evoluzione della temperatura il vino ha regalato sensazioni molto più complesse più diverse e più piacevoli tratto comune tra il Quigna e il Grumello riserva è questa balsamicità che diventa nel Quigna quasi imponente piacevole questa nota di eugualitto queste erbe di montagna molto interessante anche il Quigna che se ovviamente sarò scontato banale però mi piace esserlo in questo caso se dovessi scegliere il vino dell'emozione della degustazione di questa sera ovviamente so anch'io sul Grumello riserva posso solo dire ecco dal punto di vista cromatico concordo che sicuramente il rosso con il Grumello hanno questa cromaticità molto trasparente per cui sono molto belli anche da vedere quindi questa loro eleganza si trasmette anche poi sia nel in bocca che al naso in realtà tra i vari sentori che magari forse mi piace accennare che ho trovato proprio in quella dinamicità che più volte è stato detto in questa degustazione che è tipica di questi vini ho sentito molto piacevole per esempio nel rosso di Valtellina una rosa camina quindi su questa dominante di frutta e di speziatura accennata anche questa profumazione l'ho trovata veramente raffinata mentre nel quignan mi è piaciuta appunto questa nota di rabbarbaro che è uno di quei sentori che però è arrivato al naso non immediatamente quindi sempre in questo suo evolversi durante la degustazione e infine con il grumello sicuramente mi sono piaciute ecco c'è stato un momento dopo un po' che ovviamente era ben ossigenato che sono arrivati anche dei sentori di salamoglia di caffè di note quindi molto più tostate quindi una bella degustazione molto varia sia al palato che in bocca quindi sicuramente sono tutti vini gastronomici che si prestano molto a delle degustazioni e sinceramente sono sorpresa che potrebbero essere tranquillamente utilizzati anche in qualche serata estiva in contraposizione insomma rosso che normalmente noi lo preferiamo sempre nelle giornate in cogliene più fredde anche in questi stati caldi sono vini che sicuramente si possono bere con tutti i abbinamenti gastronomici che abbiamo già sentito dai vari ristoratori grazie ancora bene io intanto ringrazio restituisco magari un attimo la parola anche a Matteo per le conclusioni così ci può anche liberamente insultare per quello che abbiamo detto ovviamente giocando e quindi non so se ti trovi adesso a parte gli scherzi sulle descrizioni che sono state più o meno che poi più o meno sono uniformi grossomodo adesso con qualche colore o comunque chiaroscuro diverso ma fondamentalmente poi mi sembra che più o meno siamo tutti allineati innanzitutto ringrazio tutti per le belle parole mi trovo d'accordo l'unico commento che ci tengo a fare è avete centrato in pieno il senso di questi tre vini messi insieme il senso era quello di farvi capire quanto la bottiglia incide il quina è quello che ha meno bottiglia un anno di bottiglia il 4,50 e il grumello hanno due anni vedete in quell'anno cosa cambia il quina avete detto tutti che in sintesi ha bisogno di tempo è un po' austero molta polpa il legno c'è chi lo sente c'è chi non lo sente quello cambia un po' magari anche da bottiglia a bottiglia nel primo anno di vita ed è appunto il senso del mettervi questa anteprima del quale io ero consapevole cioè quindi io mi aspettavo un commento del genere e sono contento che abbiate colto il senso e grazie per il grumello per i complimenti ma grazie indipendentemente dai complimenti per aver partecipato e per aver condiviso con me e con Maurizio le vostre idee e i vostri abbinamenti molto interessanti io aggiungo solo i complimenti per il Rosso di Valtellina perché non è non è scontato né facile far uscire un Rosso di Valtellina intanto dopo dopo cinque anni e poi anche dedicare una migna singola cioè significa che c'è un'attenzione anche per per diciamo per questa denominazione che se vuoi è una denominazione che teoricamente sarebbe quasi una denominazione ricaduta ma non è in questo caso non è affatto una denominazione ricaduta ma è una denominazione assolutamente che ha una grandissima dignità al pari delle DOCG che voi avete e di tutte le sottozone che utilizzate quindi intanto io ringrazio tutti ci vediamo presto per una nuova degustazione di vino da bere un saluto dalla mandalena non mi dice proprio male in questo periodo e a presto e a presto rivederci su questi schermi vogliamo dire su questi posso dire un'ultima cosa certo Matteo volevo farvi vedere la linea completa no che è quella nuova che parte con il 450 poi abbiamo il Quigna che è quello che abbiamo assaggiato pink poi abbiamo questo che è un altro crew che si chiama Pizza May vedete lo stesso stile sempre 2013 sempre riserva stessa vinificazione e poi lo sforzato 2013 solstizio che anche lui completa la gamma ed è fatto con lo stesso stile solstizio perché viene raccolto nel solstizio d'autunno io aggiungo che abbiamo assaggiato il tuo sforzato 2001 abbiamo avuto questo privilegio in passato e devo dire che lo stile è fantastico perché è uno sforzato in cui l'appassimento non gioca un ruolo determinante ma è l'appassimento sostanzialmente a completamento di una complessità del vino e di una grande freschezza quindi in realtà il tuo sforzato gioca molto sull'eleganza adesso non ho avuto ancora il piacere di assaggiare questo numero 13 ci sarà occasione ne riscriveremo e ne riparleremo quindi grazie ancora un saluto a tutti e da presto ovviamente sul vino da bere a presto grazie grazie a tutti a presto a presto